Anzi noi daremo il massimo da minoranza, dove pure capisco i numeri in questa gente non si rimette neanche con quegli scandali vergognosi. Assolutamente. Noi mi chiediamo di quanto riguarda noi, noi possiamo fare il termine, assolutamente. Poi stiamo chiedendo di migliorare, cioè voglio dire, fa fatta la rivolta, ma non non mi possiamo dire. Assolutamente.